Beve da solo? Preferibilmente. E che cosa sta combinando in questi giorni? Vede, Ada, un altro di questi potrei dirglielo. Oh, allora offro io. Il solito, dagliene un altro. Sì, signorina Oper. Oh, andiamo, ci sono molte voci in giro. Mi dimostri che è ancora in gioco e combatte per la sua causa. Mi faccia una soffiata. Mi sussurri in segreto un film che ha appena scritto. Magari ne ho sentito parlare. Chi può dirlo?